Allora, buon pomeriggio ragazzi, video calderone come piace chiamare a me questo genere di video Non si parlerà però di questa, quindi non sarà un video del giorno dopo, o almeno una sorta del giorno dopo visto che la Juve ha giocato sabato sera Ma parleremo di varie cose, insomma del casino col VAR che è successo ieri sera con Antonio Conte Insomma anche alcuni paragoni e poi la scelta della Roma di esonerare il secondo allenatore della sua stagione Ossia l'ex Genoa, Torino e Verona tra le altre, Ivan Juric Visto che avevo parlato anche di quando era stato preso vorrei dirla mia anche adesso che è stato esonerato a distanza di una sessantina di giorni Allora, io partirei dalla partita della vetta della classifica anche perché è quella che ha più diciamo Che ha creato più polemiche, che ha creato più discussione ecco tra i tifosi italiani E Antonio Conte ieri è andato ai microfoni di Dason e nel post gara si è arrabbiato molto perché intorno al minuto 72 Se non mi ricordo male, è stato dato un calcio di rigore all'Inter sull'1-1 ovviamente Quindi situazione di pareggio e quella situazione poteva cambiare seriamente il corso della gara Io ho visto gli highlights, non l'ho vista la partita, devo essere sincero Io weekend questo ho visto solamente la Juventus, per il resto ho visto praticamente zero Ho visto qualche minuto ieri di Internavoli ma niente di che Poi ho cambiato subito perché proprio nel momento meno bello, più palloso della partita Verso l'inizio del secondo tempo, ho messo, mi stava a fare due palle, però a seconda caso ho cambiato Era una delle parti più noiose della partita, però fatto sta ho avuto la sfiga di beccare proprio la parte più noiosa E niente, insomma poi ho sentito, oggi ho letto, ho visto gli highlights di Fiorentina, scusate, di Internavoli E quello che ho visto, ho visto anche il fallo chiaramente ai danni di Danfries, mi pare di Anghissà Quello che è stato fischiato da Mariani E io credo che il fallo in sé, io devo essere onesto, io quello che ho visto è un contatto che c'è Perché il contatto c'è E ascoltate bene perché magari tanti, anche noi juventini potrebbero dire Ah di qua, di là, eh ma tu parli a Vambara Allora ascoltate, aprite bene le orecchie Aprite bene le orecchie interisti, napoletani, tutti quelli noi juventini che ascoltate questo video Aprite bene le orecchie, ascoltate bene Allora, il contatto c'è, è inevitabile che il contatto c'è, ci sia, voglio dire, no? È vero però che è un contatto abbastanza involontario Un contatto dove il piede tra l'altro neanche è a martello Questo è vero, neanche è a martello Anghissà andava per prendere il pallone Dunfriss è stato, secondo me, abbastanza furbo nell'inserirsi in questa situazione Cioè nel cercare il contrasto e poi anche a prendersi questo fallo cadendo in area di rigore È vero, secondo me, che non è un fallo Cioè, quel rigore si può dare come non si può dare, secondo me Se io, comunque, da tifoso di calcio, adesso lasciamo perdere tutti i sfottovari, antipatie e simpatie Io, il fallo che ho visto, il contatto, chiamiamolo così, meglio dire Il contatto che ho visto, secondo me, è un contatto che si può punire come non si può punire Tranquillamente, anche perché non è piede a martello Quindi, diciamo, non c'è proprio il fatto assoluto proprio di dire sì o dire no È un rigore che si può dare come non si può dare Io sono d'accordo con Conte Ho risentito l'intervista di 5-6 minuti a Dason Subito dopo la fine della partita Quando dice Il VAR è uno strumento che è stato introdotto per correggere l'arbitro quando sbaglia Quindi, anche se tu poi, Mariani, confermi la decisione sul campo Perché quella che hai preso tu Quindi vai al VAR e comunque dici Per me è calcio di rigore che è lecito, ci sta Ripeto, quello è un contatto che si può dare Il rigore come non si può dare Secondo me è una situazione molto, molto, molto al limite Io personalmente non so come mi sarei comportato Però dico solo che secondo me è una situazione molto, molto dubbia Molto al limite, molto difficile scegliere Ma tu, anche che vai al monitor, anche che vai a rivederla al VAR Puoi dare, comunque puoi confermare la decisione che hai preso Però intanto vai al VAR Perché Mariani non va al VAR? E qui torniamo sempre nel discorso Perché poi Conte ha anche detto Qui poi voi fate anche un po' pensare male, no? Se date un rigore e non l'andate manco a rivedere Una situazione dove non è assolutamente clamorosa la cosa In realtà Conte ha detto Cioè è un errore clamoroso Secondo me non è clamoroso, ripeto Per tutte le motivazioni che ho detto prima Però intanto tu lo vai a rivedere Poi confermi E vabbè, hai confermato il calcio di rigore Però perlomeno sei andato davanti al monitor E nell'eventualità hai corretto un errore Nel caso tu non decidessi di dare il rigore Quindi tornare sui tuoi passi Anche perché il VAR è stato introdotto proprio per correggere l'arbitro Perché così se no, se tutte le volte che l'arbitro dice Ho visto io, ho visto io Eh, ho visto io che cosa? Cioè ho visto io, non è concepibile ho visto io Non è concepibile quando Certo, te posso capire quando non c'hai supporti tecnologici Ma quando c'hai tutta la tecnologia Ho visto io Può essere pure che hai visto male Vattela a rivedere tu nel dubbio, no? Ma c'hai tutta la tecnologia Cioè abbiamo tutte le immagini possibili e immaginabili Ma vai al VAR e vattela a rivedere E poi ripeto Lo dai il calcio di rigore perché lo dai? Perché io ero sicuro che pure che Mariani andava al monitor Quel rigore lo dava Perché lo dava Però tu intanto Vattela a rivedere Poi confermi o smentisci Confermi o torni sui tuoi passi Allora parliamo tanto di VAR, no? Il VAR quando interviene e quando no Questa volta io vado Do ragione ad Antonio Conte Perché allora io vi cito due Situazioni Tra l'altro molto molto Recenti L'ultima proprio di ieri Ieri pomeriggio Partiamo proprio da questa Che è Atalanta-Udinese Dove c'è un tocco palese di Yen In area di rigore Lì c'è un calcio di rigore Crosso come una casa per l'Udinese E allora lì Lì il VAR non interviene Il braccio così largo Tocca il pallone di mano Col braccio largo Larghissimo Volume del corpo nettamente aumentato Qui neanche c'è da discutere Calcio di rigore solare Tutta la vita Lì il VAR neanche interviene Neanche Manca un check approfondito Zero Il VAR se ne è sbattuto proprio Fiorentina-Lazio A settembre Metà settembre Quando era Ottantottesimo Marcenaro viene richiamato Al monitor Per dare Alla Alla Fiorentina Un calcio di rigore Che poi gli ha permesso Di vincere la partita Ma è un calcio di rigore Veramente che non danno Nemmeno su FIFA Ci avete presente Quando voi tirate No? E poi Che ne so L'avversario tira Voi intervenite in scivolata Per cercate Dei muragli Il tiro Invece prendete il giocatore E vi danno rigore Punizione Vi danno il fallo Ecco Identico Identico C'è un fallo De quelli che non sta Da nessuna parte Anche perché Che fa quello della Lazio Se leva? Lui crossa Quello della Fiorentina Quello della Lazio Gli va addosso Perché è naturale Che sia così Non è che se smaterializza Dice con lo schiocco De dita Ma me levo E quello Sono nati pure Con tutto il VAR A rivederlo E hanno sbagliato Di questa situazione Mi sa ne avevo pure Già parlato Però è sempre meglio Riparlarne Allora O il VAR Si utilizza bene Giustamente Come ha detto Antonio Conte O il VAR Si utilizza In maniera Oggettiva In maniera No perché qui può intervenire Lì non può intervenire E qui può fare come gli pare l'arbitro No va bene Proprio niente C'è una situazione Dove tu dà il calcio di rigore Pure che tu sei sicuro Secondo me Pure che loro Sono sicuri Dovrebbero andare sempre A rivedere E poi Lasciamo perdere Il fatto che Conte dice Va bene Perché così poi Date Date adito No comunque Il concetto è Che poi Fate pensare male Alla gente No Cioè Non so in sintesi Chiaramente poi Un tifoso Come la può interpretare La può interpretare Come dire L'Inter ruba No La marotta league No come si è sempre detto Io già ho fatto un video Al riguardo E dico Dico solo questo Io ho detto Non c'è Moji league Juve league Non c'è mai stata Come non c'è Adesso In questi due anni Specialmente di cui se ne parla Marotta league Inter league Inter favorita Favoreggiata dagli arbitri Di qua e di là Questo non c'è Ok Ci siamo che non c'è È molto L'incompetenza Della classe Arbitrale Italiana E non sto parlando Di Mariani Io eh Non sto dicendo Mariani è scarso Mariani è una pippa Mariani è un arbitro Che non sa fare il suo mestiere Ci mancherebbe altro È proprio Una Una cosa di sistema Generale Non Mariani Guida Marcenaro I singoli Non mi interessano È una cosa di sistema Il sistema Arbitrale Italiano È in decadenza Allora Soprattutto quelli Che stavano al bar Perché l'arbitro Può sbagliare Mariani può sbagliare È umano Mariani può sbagliare Anche se dice Ho visto io Ma arbitro Di chi Tu stavi al bar Che non so Manco chi era Ma voi Degli E viete la rivedere Vediamo un attimo Com'è sta situazione Poi decidi tu Se dà rigore o meno Questo è quello Che voglio dire Però È pur vero Che certe situazioni Prese sempre A favore Della stessa squadra È un pochino Pure io Che non so Tifoso Dell'Inter Comunque Non Scusate Pure io Che non so Tifoso dell'Inter Chiaramente Uno che deve pensare Sempre decisioni A favore In Europa In Italia Ripeto Marotta League Complotti No Questo assolutamente No Però la cosa Visto che è sempre Favoreggiata una squadra E ripeto Non ci stanno Complotti Non ci stanno Chiaramente ci mancherebbe Altro Però io Una certa diffidenza La provo Ed è pure lecito Che io la provo Visto che tutte le settimane In Serie A In Champions League Qualsiasi competizione Il rigoretto dubbio Glielo danno Magari in altra situazione No Un arbitro Magari Quando arbitra L'Inter Da un rigore Quando arbitra Invece Pizzichettone Procaccolese No E le situazioni Magari sono identiche A me il dubbio Mi viene da tifoso Di calcio Che non ti fa Inter No Ed è impossibile Che non mi venga Questo io voglio dire Che la situazione Comincia un pochino Anche a puzzare No E ripeto Complotti non esistono Perché Marotta League Non esiste C'è l'incompetenza Della classe arbitrale italiana Rispetto a quella Di 10-15 anni fa E il VAR Manco c'era Tra l'altro Questo sì Però Visto che le decisioni Vanno sempre da una parte Quando Quando capita La cosa Comincia un pochino Anche a rompere il cazzo Però eh Comincia anche un pochino A scassare Eh perché non è che Tutte le volte Sempre ha una squadra Eh questo un pochino Comincia un po' Anche a rompere le scatole Effettivamente Eh Quindi Sì Lo sfogo di Conte Ok ci sta Però va anche Un pochino Commentato Va anche un pochino Eh io so d'accordo Parzialmente Ho detto perché So parzialmente d'accordo Con Conte Non al 100% Però in gran parte In larghissima parte Io sono Con Antonio Conte Perché ha detto Una cosa sacrosanta Il VAR esiste Anche se L'arbitro ha visto L'arbitro è umano Può sbagliare Può aver visto male Vai al VAR Senza che VAR ha chiamato VAR non ha chiamato Vattela ripete Punta e basta Poi confermi Confermi Torni sui dei passi E torni sui dei passi Vuol dire che Hai visto Un'altra cosa Che in realtà Non avevi visto Dalle immagini Vedi una cosa Che Magari anche Da angolazioni diverse Anche da Punti di vista Differenti Che non avevi visto Prima sul campo In presa diretta Perché poi lì È un attimo Le immagini Le vedi 40-50 volte Ma tu Un attimo Lì Lì Puoi anche Sbagliare Perché lì C'è anche La tensione C'è anche Lo stadio Capito Quindi È proprio Una situazione Umana Quindi vattela Rivedere La tecnologia C'abbiamo le immagini Rivedetele 50 volte Pure Poi confermi Bene Non confermi Pace Detto questo Ok Mi sono dilungato Anche troppo Sul VAR Io spenderei Due parole Sulla Roma Anche qui Sarebbe Un'infinità Di cose Da dire Perché Sarebbe da fare Un altro video Di mezz'ora Per parlare Nel dettaglio Della situazione Dei giallorossi Allora Io avevo detto Che effettivamente Juric Juric Io l'avevo detto E lo confermo Juric secondo me Messo in un contesto Dove l'ambiente Non è Pretenzioso Come quello Della Roma Dove non è Poi così caldo Come quello Della Roma Che non è Così particolare E anche in una situazione Più tranquilla Rispetto a quella In cui Juric è arrivato Perché tu cacci Dei rossi Dopo quattro giornate Dopo che gli avevi Prolungato il contratto A giugno I tifosi Della Roma Che te devono Di Te mandano A quel paese Giustamente E anche Comprensibile Voglio dire No Bene Juric È un allenatore Secondo me Messo in un contesto Tranquillo Dove lui Ha l'opportunità Di fare mercato Perché lui Ne ha anche avuto L'opportunità Di fare mercato Di lavorare Con calma Con serenità Con calma Con tranquillità Lui è uno Che i suoi frutti Neanche troppo Alla lunga Te li fa vedere Juric È stato Massacrato Mediaticamente Mediaticamente Diciamo Dai tifosi No Anche Perché Giustamente Non hanno visto Quella scossa Non hanno visto L'ambiente Poi già era Dilatato Di suo Già era Bello Caldo Di suo No Perché ripeto Tu cacci De Rossi Dopo che gli avevi Prolongato il contratto Dopo quattro giornate Non gli dai Fiducia Dopo che gli avevi Rinnovato il contratto Te Dopo che aveva fatto bene La stagione precedente Decidi di non rinnovare Il contratto Dopo quattro giornate Me lo cacci via Senza tagli tempo Ripeto Poi De Rossi Non ha mai proposto Chissà quale gioco La squadra andava Sulle ali dell'entusiasmo Quando è stato cacciato Mourinho L'anno scorso Perché aria nuova Il fatto psicologico Di avere un allenatore Nuovo in panchina Fa tanto E infatti La prova è stata Roma Udinese La Roma ha vinto 2-0 Adesso Sinceramente Non mi ricordo Neanche giocando bene O giocando male Comunque ha vinto Perché proprio La cosa psicologica Nel bene o nel male Di avere una persona Diversa in panchina Secondo me Fa tanto Ok E l'avevo già detto Nell'altro video Quando Juric Era stato Annunciato Probabilmente La Roma giocherà bene Perché c'è un'altra persona Quindi C'è il concetto Nella testa dei giocatori Magari Aria nuova Anche se De Rossi È una persona Che nel cuore Dei romanisti È una persona Insostituibile Come Totti Però Cercate di capire Quello che dico Nel senso È una persona Già Cioè Il fatto di avere Di una persona Diversa Da un Qualcosa in più Sia che quella Che c'era prima La amavi Alla follia Che quella Che non c'era prima La odiavi Il discorso Calcisticamente Parlando Ci mancherebbe Poi umanamente Ognuno Poi Fuori dal calcio Quindi Gli esempi L'ho fatti Allegri De Rossi No Quando era stato Cacciato Montero Allegri Non lo sopportava Più Scusate Cacciato Allegri Arrivato Montero Allegri Non lo sopportava Più nessuno La Juve Poi riprende Una partita Che perdeva 3-0 3-3 E poi vince Col Monza Che non vinceva Da quanto Non manco Mi ricordo A parte La finale Coppa Italia Cacci via De Rossi Metti Juric Oppure che tu Comunque amavi Tantissimo La follia De Rossi Comunque C'era un buon Rapporto Diciamo così Ecco Diciamolo così Un buon rapporto Con il giocatore All'interno Dello spogliatoio Anche se poi C'è una persona Nuova Tendi comunque A fare Del tuo meglio Perché c'è una persona Nuova Quindi magari Vuoi anche Impressionare La persona Nuova Poi Dopo che Ti sei assopito A una certa realtà Cominci a fare Bene o male Salvo Eccezioni Come hai sempre fatto In questo caso Non c'è stata l'eccezione Perché Juric Poi Ha fatto Quanto ha fatto Due vittorie Ha vinto poi Col Venezia Rimontandola Anche lì Il Venezia Se faceva il secondo gol Lì probabilmente Avremmo parlato Di un'altra partita Anche lì ho fatto Un altro video L'avevo detto Però ecco E poi Il fatto del comunicato Di ieri Perché il comunicato Di ieri Della Roma Dice Juric È arrivato In una situazione Non facile Ma io fossi Tifoso Della Roma Io quando ho letto Quel comunicato Se io fossi Tifoso Della Roma Ma io mi incazzerei Come una bestia Con la società Perché Ha un ambiente Non facile Ma l'avete creato Voi società L'ambiente non facile Cioè È la società Giallo rossa Che ha creato L'ambiente non facile Perché è vero La Roma non è mai partita Salvo rare eccezioni A pallettoni A parte l'anno Quella dei Dei 30 punti In 10 giornate Con Rudy Garzia Che è uno Tra l'altro Dei papabili Sostituti Che si sta valutando Così pare A me non mi pare Che la Roma Abbia mai fatto Grandissime partenze A razzo Negli ultimi Almeno negli ultimi 5-6 anni Parlo Poi 10 anni fa Quando c'erano Juve Roma e Napoli Che si contendevano Spesso Lo scudetto Poi la Juve Che vinceva sempre Sì Roma e Napoli Vincevano Un po' di più Perché Milan e Inter Praticamente non esistevano Non so Quelle che So oggi No Quindi io parlo Negli ultimi 5-6-7 anni La Roma non è che abbia mai fatto Grandi partenze A razzo Quindi Comunque Col tempo Secondo me È una situazione Che si sarebbe Riappianata E tu Cacciando De Rossi Per lo più Un allenatore Amato Quanto anche A livello personale Romano e romanista Tu me lo togli Dal suo Comunque Contesto Per cui ci ha giocato 20 anni Quasi Tifosissimo Fin da bambino Allenatore Era arrivato a essere Allenatore Ripeto Pur non proponendo Chissà quale gioco Perché la squadra Andava sulle ali Dell'entusiasmo Tu me lo togli Da lì E il tifoso Romanista Che cosa deve pensare Il di là di tutti Sfottò Cose Rivalità Perché a me piace Perché si sa Lo sfottò È il sale del calcio Litigare per la propria Squadra del cuore Difenderla Contro gli altri È il sale del calcio E ci sta Però se io devo parlare Da tifoso Oggettivamente L'ambiente Difficile L'avete creato voi Cacciando via De Rossi Che è un allenatore Che voi avete rinnovato Il contratto a giugno E lo cacciate via Dopo quattro giornate Dimostrando scarsa Progettualità Perché questo è vero Ancora di più Andandomi a levare Da Da quell'ambiente Una persona Che ci ha giocato Vent'anni E che era Tifoso Di quella squadra Amato Dai tifosi Per cui Quindi c'era Questo legame Profondissimo Di Amore eterno Reciproco È questo Quello che Non capisco Da tifoso La situazione È bollente In casa Roma L'avete creata Voi società Roma Questo è Quindi La situazione Adesso La Roma Continua ad avere 13 punti Ok In classifica Adesso non mi ricordo 13esimo 14 Sta più 3 Più 4 Sulla zona Retrocessione È una patata Bollente Che l'allenatore Nuovo Chiunque Sosia Secondo me È una situazione Quest'anno Andata così Per la Roma Quindi Voglio dire Comunque Deve cercare Di fare Il meno male Possibile Deve cercare Di salire La china Secondo me Più possibile Parlo da Tifoso Oggettivo Togliendomi In questo momento I panni Tifoso Della Juve Parlando di Tifoso Di calcio Deve Fare Il Diciamo Deve evitare Ogni male Possibile Nel senso Deve cercare Di fare Il meno male Possibile All'allenatore Che verrà Ma io non credo Che questa situazione A livello mentale E a livello Di ambiente Societario Possa essere risolta Perché ormai Andata così Magari la Roma Si risolleverà Arriverà Quinta Sesta Alla fine del campionato Questo non lo sappiamo Però Intanto L'allenatore Cerchi di lavorare Nuovo Sulla testa Dei giocatori E cerchi Di salvare Il salvabile Ecco Diciamolo così Cerchi di salvare Il salvabile Lavorando Sulla testa Ancora prima Che sulla tattica Dei giocatori Prima del 4-2-3-1 3-5-2 5-5-5 Bizzona Pensasse Prima a lavorare Sulla testa Dei calciatori Ancora prima Che sulla tattica Questo È quello Che dico io Detto questo Secondo me Ripeto Juric rimane Un allenatore Competente Preparatissimo Bravo Calcio dinamico Però è arrivato In un ambiente Dove non ha fatto Mercato In un ambiente Già molto caldo E molto pretenzioso Molto particolare Come Roma Chiaramente non è facile Fare Diciamo Lavorare serenamente Lavorare con calma Perché Chiaramente La situazione Era quella Purtroppo Per fortuna Insomma Dipende Dai punti di vista Di ognuno Di voi Che guarda il video Detto questo Spero di essere Stato chiaro Un po' lunghetto Però insomma Il video calderone Purtroppo Sono così Ci si dilunga E niente Noi ci vediamo Alla prossima Magari per commentare La nazionale Ma non lo so Vediamo se Insomma Se guarderò qualcosa Faccio il classico video Che non dura tanto Però insomma Per parlare tanto Così per fare due ghiacchiere Visto che il calcio Di club È sospeso Fino a Fino a fine novembre Insomma Detto questo Questo è il quanto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi